Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati! Dicono che uno dei modi più facili per conoscere un territorio è quello di assaggiarlo ed eccoci infatti qui a Ciesio Maggiore, in occasione della Festa della Patata. Siamo in compagnia di Eugenio Garlet, presidente del Comitato della Patata di Ciesio Maggiore. Eugenio, grandi numeri! Sì, siamo bei numeri, siamo molto soddisfatti perché la gente viene a trovarci perché anche gli anni scorsi abbiamo seminato bene e continuano a venire a mangiare i nostri prodotti. Come raccontare attraverso un alimento, un territorio? Penso che l'alimento è quello che fa vivere il territorio. Noi abbiamo cominciato così per scherzo la Festa della Patata, invece è venuta fuori una festa che quest'anno è il 17esimo anno, sempre più grande, sempre più preparata, anche da... ho una bravissima equip dietro che lavora perché veramente senza loro non farei niente e diciamo che proporre i prodotti, portarli sul piatto è la miglior figura che si può fare per mostrare il nostro territorio. Raccontaci un pochettino perché siamo affamati, cosa possiamo assaggiare qui? Ma, beh, allora, adesso che il piatto regina è il pasticcio di patate, ha superato i gnocchi, sono buonissimi anche i gnocchi, però il pasticcio di patate è andato oltre. Noi siamo già otto giorni che lavoriamo a preparare tutto per questo evento, con delicatezza e accuratezza dei prodotti. Ma dimmi, qua c'è solo patata o possiamo anche assaggiare altre golosità di questo territorio? Assieme alla patata c'è il pastin, ieri sera abbiamo fatto lo schiz, c'è il spezzatino con la patata cornetta che è accompagnato a polenta e a mais poncho, dopo c'è il formaggio alla piastra, c'è un po' di tutto che tutti magari non prendono mai, il 99% sono gnocchi, pasticcio e spezzatino. Ma allora adesso mi è incuriosita, hai parlato di una bravissima equip, mi porti a conoscerla questa equip, Eugenio? Porto volentieri a vedere la nostra equip anche perché io ci tengo sempre a ringraziarli perché con il volontariato facciamo grandi cose e avendo una bella squadra si riesce a fare una manifestazione del genere. E allora vive i volontari, andiamo a conoscerli! Chi abbiamo qui? Qui abbiamo tutto il reparto da distribuzione, abbiamo due linee per far snellire un po' il lavoro, vedi già dall'immagine quanta gente c'è che ci lavora, insomma solo per la distribuzione, adesso ti porto avanti e ti faccio vedere in cucina. E qui c'è un profumino che con le sole immagini proprio non si può raccontare. Siamo in compagnia di Walter, braccio destro della cucina. Walter, cosa ci state preparando qua di buono? Abbiamo il pasticcio, i gnocchi, sempre di patate, lo spezzatino sempre con le patate, il pastinco, la polenta di mais poncho e questa sera basta. Quanto è importante il lavoro del volontariato? Vediamo numerosissime persone. 100%, 100%. E quindi bravi tutti? Bravi tutti. E buon appetito? A tutti quanti, ah. Dal cuoco, eh, dallo chef che abbiamo qua in cucina. Arrivederci, grazie a tutti. Patata, patata, ma anche la polenta ha il suo ruolo, vero? Siamo qui con Nereo che mi ha detto di essere il capo polenta. Sì. Allora questa polenta di mais poncho? Una farina buona, polenta buona quando è cotta. E cosa racconta del territorio il mais poncho? È un grano vecchio che c'era dai nostri nonni, che poi era un po' smesso e adesso l'hanno ripreso. Ed è buonissima. È buonissima. Dimitri, dimmi un po', io sono qua che ho il languorino, sento questi profumi. Cosa mi consigli di assaggiare questa sera? Guardi, secondo me è tutto buono qua. Ma tutto buono, fatto bene, fatto con qualità, fatto con sicuramente tutte le norme igienico-sanitarie. È qualcosa di particolare, tutto fatto a mano dalle nostre donne. E io ripeto, e lo dico sempre, che questa non è la festa della patata di Cesio Maggiore. È la festa della patata, ma è la festa di tutto il comune, di tutto il comprensorio. Perché la gente viene qua a dare una mano, si fa due chiacchiere, si parla insieme. Tante volte si trovano persone che magari si sono perse per qualche anno e poi si trovano qua a pelare patate. Quindi, insomma, è una bella festa. Un bel ritrovo. È un bel ritrovo, è un bel piacere. E vediamo che tutti gli anni miglioriamo, aumentiamo. E il problema, piano piano, sarà il posto dove mettere le persone a sedersi a mangiare. Quello è il problema. Eugenio, chili di patate, ma non solo tantissimi prodotti. Perché mangiare locale, abbiamo detto, è mangiare buono, è mangiare genuino, è mangiare protetto. Perché sappiamo da dove vengono i prodotti. Raccontaci un pochettino di questa filiera di produzione, di quante cose possiamo assaggiare e assaggiare anche il territorio, assaggiando proprio questi prodotti. Sì, diciamo che come cooperativa da alcuni anni ci siamo organizzati per la produzione di tutto agroalimentare. La cooperativa è nata 40 anni fa, quest'anno celebriamo il quarantesimo. E era nata come zootecnia per gli acquisti e così. Sì, la zootecnia andrà meno e allora ci siamo evoluti nei prodotti. Abbiamo cominciato con la patata, con la patata deco di Cesio, la farina di mais poncio, che è uno dei cavalli di battaglia dei nostri prodotti. L'orzo, sia per minestre che per il caffè, che per la birra Dolomiti. Siamo orgogliosi di essere i produttori dell'orzo per la birra Dolomiti, che viene fatta a Pedavena. E dopo abbiamo tutti trasformati. Raccontaci un pochettino, facceli vedere che sono proprio curiosa. Ecco, un altro prodotto che facciamo è il farro, farro alpino. Queste sono le gallette del farro. C'è il farro proprio per fare le minestre. Questo è l'orzo tostato per mocca, che è veramente buono. Le gallette del mais poncio. Perché diciamo, uno dei prodotti più importanti dell'azienda agricola La Fiorita è proprio il mais poncio, è il re, diciamo. La patata è la regina e poi c'è il re e il mais poncio. C'è il re che è il mais poncio e dopo abbiamo avanti tanti altri prodotti. Che diversifichiamo anche per la rotazione della coltivazione e tutto quanto. E dopo il nostro cavallo di battaglia, questo adesso è arrivare anche a fare i trasformati. per garantire ai produttori la garanzia di acquistare tutto il prodotto e al consumatore averlo per 365 giorni all'anno. E noi ci stiamo organizzando proprio con la trasformazione. Abbiamo cominciato da due anni e adesso andiamo avanti sempre bene. Eugenio, quali sono i punti di forza di mangiare locale? Ma qui è tutto buono il nostro. Anche perché la cooperativa usa un disciplinare. Tutti i produttori sottoscrivono un disciplinare che è vietato la chimica, diserbanti, conservanti, quelle cose là. Se c'è da fare qualche intervento si fa con prodotti ammessi biologici. Non siamo certificati biologici ma usiamo un disciplinare molto rigido. E il consumatore deve stare tranquillo che abbiamo prodotti seri insomma. Altro alimento da sempre nelle tavole dei bellunesi e di tutta, tutta, tutta la Valbelluna e oltre è il proteico fagiolo. Certo, è il fagiolo, il fagiolo Lamonga, l'IGP. Poi abbiamo il Jalette, che è un fagiolo, quello è la Ferrari dei fagioli. E il Bala Rossa Feltrina, i Bonei. Sono tutti fagioli prodotti qui nel territorio, ricercati da anni che ormai aveva smesso quasi e noi li abbiamo rilanciati sul mercato per far vedere i prodotti dei nostri nonni che sono veramente qualità forti. Proprio buono!